Siamo di fronte davvero alla discussione di un tema importante, sentito nell'opinione pubblica, annunciato peraltro nei mesi, nelle settimane passate, in maniera forte dal partito politico proponente, il Partito Democratico, addirittura con l'ambizione di applicare l'articolo 49 della Costituzione, finalmente, considerando anche il nuovo contesto storico in cui questa discussione si sta sviluppando. Lo dico perché rispetto appunto a questo tema, a tema di questa rilevanza, era stata presentata una proposta di legge da parte dell'onorevole Guerini, che mi risulta essere vice segretario del Partito Democratico. In Commissione sono state fatte moltissime audizioni, convocando esperti, ragionando sia sull'articolo 49 della Costituzione che sulle sue possibili leggi di applicazione. Sono state presentate moltissime proposte di legge e bisogna riconoscere in questa sede anche la serietà del relatore, che le ha lette, esaminate, si è capito dalla discussione, che è stato fatto un lavoro che partiva comunque da una conoscenza anche approfondita delle proposte che erano state fatte. E tuttavia non si può non sottolineare in questa sede come il risultato finale sia estremamente deludente, se queste erano le premesse. E lo voglio dire perché credo che dobbiamo metterci d'accordo su un punto di fondo nel fare questa discussione. Noi stiamo facendo questa discussione perché pensiamo che la democrazia rappresentativa nel nostro Paese, e non solo nel nostro Paese, sia in crisi. E quindi in qualche modo il sistema politico si deve autoriformare. Oppure il punto è trovare semplicemente requisiti minimi che possano tenere insieme le forze politiche oggi esistenti e consentire loro di non farsi del male e di andare avanti così come hanno fatto fino ad oggi. Perché sono due piani di discussione estremamente diversi. E io con la stessa chiarezza vorrei anche dire che non tutti i problemi potrebbero essere risolti, ovviamente, con una legge sui partiti. Noi siamo in un contesto storico che è profondamente mutato, su cui occorrerebbe ragionare. Il fatto, ad esempio, che gli Stati nazionali non siano più la sede, diciamo, ultima della sovranità, a differenza che nel 1948. Il ruolo nuovo che ha assunto l'Europa, spesso anche con caratteristiche non troppo democratiche. E questo diventa anche un limite nella partecipazione diretta dei cittadini. Il fatto, ad esempio, che gli stessi modelli produttivi sono mutati e i partiti politici, le forme della politica, erano molto legati a quei modelli produttivi. E oggi far tornare i cittadini alla partecipazione implica anche modalità diverse di partecipazione che tengano conto dei ritmi di vita delle persone e, appunto, dei nuovi modelli produttivi. Cioè, bisognerebbe fare una discussione seria su questo tema. Poi, naturalmente, c'è un aspetto, invece, che era quello che noi avremmo dovuto normare, che riguarda specificamente le forze politiche. Ora, noi stiamo discutendo di questa legge perché nel frattempo è successo qualcosa. I partiti che c'erano nel 1948 e che erano essi stessi la democrazia nel nostro Paese, perché erano stati i protagonisti della resistenza, dell'antifascismo, perché erano partiti fortemente partecipati, avevano milioni di iscritti, non avevano bisogno, in quel contesto, di essere regolamentati nella loro democrazia interna. Non c'era questa domanda che arrivava dall'opinione pubblica. Anzi, c'era il pericolo che un'eccessiva regolamentazione in quel contesto fosse vissuta come il tentativo di escludere qualcuno. Poi sono successe altre cose nel frattempo. Le forze politiche non solo non sono più quelle, ma si sono progressivamente svuotate, sono diventate sempre di più verticistiche, gestite da ristrette cerche di persone. I partiti sono sempre più facilmente scalabili, anche per questa ragione, da lobby economico-finanziare esterne alla vita democratica di questi partiti. C'è stata l'intervista di Enrico Berlinguer nel 1981, in cui ci ha richiamato al tema dell'occupazione della politica delle istituzioni. C'è stata poi negli anni 90 a Tangentopoli. Il consenso e la credibilità delle forze politiche è precipitato nell'opinione pubblica. Stiamo ragionando di questo oppure no? Cioè è questo il punto di partenza della nostra discussione oppure no? E lo dico anche rispetto alle nuove forze politiche che si sono affacciate negli ultimi anni. Io penso che sia utile che siano energie nuove, fresche, vitali, bene quando arrivano soggetti politici nuovi, ma se continua ad andare a votare il 50% della popolazione e se continua a esserci una crisi terribile delle iscrizioni alle forze politiche, vuol dire che anche questo non è bastato. Continuiamo a essere in una crisi della democrazia evidentissima. Allora il tema è se noi, dal punto di vista della vita democratica delle forze politiche, ci mettiamo nell'ottica di favorire e di riconoscere i diritti politici dei cittadini e di consentire che le forze politiche tutte abbiano dei requisiti minimi, che non vuol dire quindi entrare nella legittima possibilità delle forze politiche di autodeterminarsi, ma di mantenere un equilibrio tra questo e la possibilità dei cittadini di partecipare effettivamente e di contare nelle forze politiche. Questo è il tema, io credo, che noi abbiamo di fronte e che mi sembra non affrontato in modo adeguato da questa legge. Del resto, appunto, anche la discussione che ho ascoltato prima del mio intervento non si pone su questo terreno, cioè non mi pare che questo sia stato il livello della discussione. Il relatore ci diceva, e in effetti questo è stato un po' il filo rosso di tutto il ragionamento, che si è cercato di lavorare molto sulla trasparenza più che sulla regolamentazione. Ma nella situazione di oggi non è sufficiente. Cioè non è sufficiente, è come se io passassi davanti ad una vetrina, e sì, la vetrina è diventata trasparente nel senso che l'opacità che c'era prima non c'è più, e il problema è quello che vedo dentro questa vetrina. Cioè, come sono i partiti oggi, i cittadini italiani lo sanno benissimo, non c'è bisogno di fare un'ulteriore operazione di trasparenza. Semmai ci sarebbe stato bisogno di dare qualche risposta alle critiche che vengono dall'opinione pubblica. Cioè, se io guardo dentro una vetrina, anziché trovare i cioccolatini, ci vedo dei mattoni, sì, sarò contento della trasparenza, ma questa trasparenza mi evita di entrare dentro al negozio. Noi invece avremmo dovuto forse fare qualche intervento che parlasse all'opinione pubblica e dicesse che da oggi i partiti provano ad autoriformarsi, provano a diventare dei soggetti fruibili dei cittadini. Perché dico questo? Perché dal punto di vista del metodo democratico mi sembra che ci sia ancora troppo poco. Non ci sono nemmeno i requisiti minimi, io credo, di uno statuto che consenta quello che dicevo prima, cioè una chiara identità dei soggetti. Anche, diciamo, come si intenda rappresentare politicamente l'opinione pubblica. Cioè, sarebbe bello che ci fossero operazioni di trasparenza davvero, per cui i soggetti politici avessero innanzitutto l'obiettivo di dire chi sono, cosa vogliono fare, chi vogliono rappresentare. I diritti degli iscritti, anche su questo mi pare che ci sia troppo poco. Un altro tema che secondo me è fondamentale, quello della selezione delle candidature, si potrà avere, diciamo, ognuno lo suo metodo, ma non mi pare che ci sia ancora sufficiente trasparenza. E questo è un punto nodale per la partecipazione dei cittadini. Il tema delle incompatibilità. Facevo prima riferimento all'intervista di Enrico Berlinguer del 1981. Io credo che ci sia un tema, se vogliamo restituire credibilità alle forze politiche, rispetto all'incompatibilità tra cariche di partito e cariche di governo, a tutti i livelli. Allora, io dico che negli anni passati questa, diciamo, commistione e sovrapposizione ha riguardato tutti o quasi tutti, ma in una legge che avesse l'obiettivo davvero di fare un passo avanti. Questo è un tema cruciale. Se i partiti devono essere il luogo della partecipazione e dell'elaborazione e poi i livelli di governo regionali, nazionali, devono essere appunto gli esecutivi, laddove rappresentando il Paese o la Regione si fanno delle scelte. E invece anche su questo non c'è nulla, non si è potuto nemmeno fare una discussione. Infine, il tema della trasparenza e dei finanziamenti. Ora, questa legislatura è iniziata ponendo al centro proprio il tema del finanziamento pubblico o privato alla politica. Ora, io trovo davvero singolare che, diciamo, dopo che si è fatta quella legge, mi pare fortemente voluta da quasi tutto il Parlamento, che sostanzialmente aboliva il finanziamento pubblico diretto e trovava una formulazione che, a nostro modo di vedere, è discriminatoria, perché è molto legata al reddito delle persone, cosa che quindi per noi è inaccettabile. Oggi la battaglia politica tra Cinque Stelle e PD è ancora sul tema della trasparenza dei finanziamenti. Forse perché l'unica vera modo di finanziare in maniera trasparente i partiti resta il finanziamento pubblico. Noi abbiamo provato, almeno attraverso questa legge, però è dei limiti al finanziamento privato. Se il finanziamento corrisponde ad una visione, diciamo, ideale, come dovrebbe essere, intanto io non capisco perché le persone giuridiche debbano finanziare i partiti, secondo non capisco perché alcuni soggetti possano finanziare anche più partiti, a volte di destra, di sinistra e di centro, contemporaneamente. Possiamo mettere dei limiti a tutto questo, oppure facciamo una discussione finta anche sul tema del finanziamento privato? Allora, concludendo, io penso che era una discussione interessante, avremmo potuto realizzare una legge utile per i cittadini, alla fine mi pare che la montagna abbia prodotto il topolino e anche questa contrapposizione tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico mi sembra largamente finzione perché nella realtà in questa legge c'è realmente poco.